Ma scusate, non vi ricordate tutti i sacrifici che ho fatto io in quel vecchio episodio, Maxi Homer, per ingrassare più di 130 chili, per poi avere l'invalidità, per poter lavorare da casa? È una cosa che mi ero dovuto guadagnare molto duramente e voi ve ne volete andare in giro? Un po' di rispetto per tutti i miei sforzi, cacchio, cacchio. Per continuare premere il tasto qualunque. Dov'è il tasto qualunque? Potete sempre rimanere a casa ad ascoltare i miei racconti. Correva l'anno 1900 a Mbaraba II. Dovevamo dire a Mbaraba perché il Kaiser ci aveva derubato della parola venti. Mi raccomando, uscite solo se strettamente necessario. Tipo se dovete comprare le sigarette. Questa è la volta buona che smettiamo, Selma. Salve Salvino, beh, visto che non possiamo andare in chiesa, potremmo fare il giochino delle preghiere. Scriviamo tanti titoli, titoletti di preglierine su dei fogliettini e li mettiamo in un cesto cestino. Poi ognuno mescola, si estrae e si legge quella preglierina. Sì, a me è uscito l'atto di dolore. Sia lodato il signore. Ora che nessuno viene in chiesa mi possa rilassare un po'. Qualcuno pensi ai bambini? E c'eratatela a bocca, El. I bambini? E c'eratatela. Ah, che jet market ha chiuso? Oh, Ganesha, aiutami tu. Bene, dovete stare a casa perché fuori non c'è niente da vedere. I amè bella. Smitters, credo che farò quella donazione all'ospedale al reparto di terapia intensiva. Ah, sì, quando saremo tutti in zona rossa. Ah, credo che dovrà fare quella donazione, signore. Stando a casa potreste fare gli scherzi telefonici, ad esempio. Non a me, ovviamente. Piccoli delinquenti, anche perché il bar è chiuso. Ma c'è un ragazzino che mi ha dato delle idee, tipo... Voi fate il numero e chiedete. C'è Miss K? Di cognome Fallorina. Con le scuole chiuse finalmente posso starvene un po' a casa anch'io a badare la mia bambina. Sì, Mur, la casa va a fuoco! No, bambina, è sempre l'aurora boreale. Io mi adopenerò per fare delle dirette su Instagram dove vi mostro i miei esperimenti scientifici. Ho preparato anche la sigla, ascoltate. Ehi, ehi, il professor Frank, il professor Frank... Ciao, sono Troy McClure. Forse vi ricorderete di me per altri documentari come Virus Birbantello o Quarantena che Passione. E se non ve li ricordate, stando a casa potrete riguardarveli tutti. A casa potete giocare ai videogame? Anzi, no, Tempestadosse non mi interessa più. Adesso gioco con queste chiappatalline. Oppure potete giocare ad Ammazza che Mazza. La palla è dentro. Il parcheggio. Vuoi giocare... ancora? Hai selezionato? No. Mi raccomando, seguite i consigli dei Simpsons. Ho voluto anche io in qualche modo dare il mio contributo a modo mio. Insomma, la maglietta, anche se non dei Simpsons, ma è sempre Matt Groening. Futurama fusa con Avengers Endgame di Pampling. E potete sempre sfruttare questo mese la promozione 3x30. Tre magliette a 30€ e se ne prendete di più le successive sempre a 10€ l'una. Buona quarantena, siate responsabili e restiamo a casa a guardare la TV! Grazie. 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 Grazie.